bella ragazzi qua il ghiotto mamma mia signori giornata veramente torrida qua da me si muore veramente ma cerchiamo di rinfrescare anche un po le idee con tante notizie ragazzi perché veramente c'è tanta carne al fuoco nel mondo lazio speriamo che poi cuocia bene almeno in parte che poi la possiamo assaporare a breve termine perché io vorrei ma lo vuole anche sarri che entro fine giugno bar inizio di luglio cioè quando partirà il ritiro di auronzo chiudere almeno 3 4 acquisti nei ruoli cardine cioè il portiere il difensore eccetera comunque adesso andremo a sciorinare tutte queste news mi raccomando like tanti like ragazzi almeno 400 se volete anche domani un aggiornamento riguardo al calcio mercato iscrivete ovviamente al canale seguitemi su instagram trovate tutto nel primo link in descrizione ma c'è una novità sono da ormai una settimana anche sbarcato finalmente un po in ritardo su tiktok quindi mi raccomando sono molto attivo oggi ad esempio pubblicherò un video su su tiktok appunto relativo al compleanno di zaccagni per celebrare la sua stagione quindi seguitemi trovate tutto sempre in descrizione nel secondo link comunque allora lazio romagnoli partiamo subito forte con secondo me l'acquisto forse più importante dell'estate laziale perché poi di difensori forti giovani e a parametro zero tra l'altro anche laziali non se ne trovano quindi bisogna prendere romagnoli è un imperativo acquistare il neo vincitore dello scudetto con la maglia rossa nera quindi romagnoli e lazio le distanze sono si limano sempre di più perché il giocatore vuole la lazio ha rifiutato diciamo gli ammiccamenti di monza di fiorentina anche se forse poi offerte così concrete non ne hanno mai espressa lo suo entourage comunque l'offerta della lazio è 2 e 7 quindi da 2 e 5 si è lottita ha fatto questo piccolo sforzo la richiesta rimane 3 sempre senza contare i bonus io sto parlando di parte fissa però filtra assolutamente ottimismo quindi secondo me è probabile che poi il primo luglio venga annunciato romagnoli quando poi partirà ufficialmente il calcio mercato si lavora sempre sull'ingaggio sulle commissioni agli agenti e vuole la lazio ragazzi questa è la cosa principale la volontà del giocatore io ripeto sono contento perché poi se non prendi romagnoli in difesa già sei messo male poi ripeto chi prendi quindi se tu già acquisti romagnoli hai già diciamo metti un bel mattone per quanto riguarda il reparto difensivo è ovvio che l'arrivo del giocatore putex milan passerà probabilmente dall'addio di francesco acervi che è destinato ad andare via si è rotto qualcosa con la lazio in generale anche lui è un 88 quindi vai molti in là con l'età pensate che comunque romagnoli per esempio ha 7 anni meno ed è mancino quindi vai a sottotitivare acervi con uno forse anche più forte più giovane che è motivato quindi bene così dove andrà acervi non lo so perché ha un contratto ancora lungo lo tito chiede comunque diversi milioni per liberarlo juve inter so che li strizzano l'occhio però non vogliono spendere quei soldi però diciamo situazione in divenire poi una piccola anzi due notizie diciamo non riguardanti il calcio mercato allora campagna abbonamenti vi ricordate che vabbè chi mi segue su instagram lo sa era uscito un indiscrezione che la campagna sarebbe dovuta partire il 13 giugno quindi dovrebbe essere lunedì scorso non è così partirà probabilmente il 23 sono già usciti i prezzi li potete poi cercare già online vabbè a me non interessa perché appunto non sono di roma 23 giugno addirittura dicono 22 quindi il 23 giovedì 22 mercoledì prossimo vediamo speriamo perché le altre società ad esempio sono già partiti hanno già fatto migliaia di abbonamenti quindi cerchiamo di non arrivare sempre in ritardo e poi la figc ha presentato contro ricorso d'urgenza con procedura d'urgenza e si saprà poi il 21 giugno alla fine la decisione finale sempre riguardo all'indice di liquidità come criterio necessario per l'iscrizione al campionato sappiamo che quest'anno era stata introdotta questa regola che il punto l'indice di liquidità era diventato un criterio necessario ok vincolante per l'iscrizione al campionato l'ottito e la lega ha fatto ricorso hanno vinto ma adesso c'è il conto ricorso però al di là di quello l'ottito comunque dovrà versare due milioni e mezzo per sbloccare l'indice riguardo al mercato quindi la lazio ha sempre il mercato bloccato i giorni passano io continuo a dire che la lazio non ha programmazione o comunque che viviamo molta la giornata perché cazzo ma è possibile che siamo l'unica squadra forse insieme allo spezia che ha sto sto bellini scusatemi scusate il francesismo di indici di liquidità ancora bloccato e ripeto siamo al 16 giugno quindi tra due settimane inizia il ritiro vediamo cosa vogliamo fare poi carne secchi si è operato quindi tre quattro mesi di stop probabilmente ancora non è una cosa confermata quindi la lazio sembra voler puntare sempre su di lui magari prendendo un portiere diciamo tappabuchi si è proposto marchetti che io li voglio bene però si è più giovane di reina perché reina un 82 non è più affidabile marchetti un 83 però ragazzi capite bene che marchetti ormai sono 4 5 anni che è un portiere finito già nell'ultimo anno di lazio era imbarazzante non me ne voglia ma fisicamente è crollato vi ricorderete che era sempre rotto quindi la lazio chiederà uno sconto alla dea si va verso magari il prestito con obbligo però sembra che comunque anche sarri punti tutto su carne secca e io sono in parte d'accordo poi ripeto a me se prendono gugliermo vicario io vado tranquillo e sono contentissimo anche perché costa addirittura meno ed è giovane ed è integro fisicamente ed è un grande e ipotesi radu jonuz perché dall'inter in uscita magari in prestito o sirgu operazione low cost devo dire che sapete che a me radu mi sta anche simpatico quindi non mi dispiacerebbe prendere magari questo ragazzo che poi accetterebbe di fare il secondo stracosci in uscita lo sappiamo andrà via a zero ho visto il celsic addirittura magari come per completare la rosa potrebbe essere interessato al portiere ex lazio ormai praticamente poi mertens lazio io ci credo poco comunque lui non rinnoverà col napoli e sarri sembra che gli abbia telefonato ma io non ci credo e gli abbia detto abbassa le pretese ma ribadisco ci credo poco anche perché come progetto tecnico mertens noi stiamo andando verso un ringiovanimento quindi va a scontrarsi con questo nostro progetto e soprattutto lui non accetta di fare il vice immobile vuole giocare di più è chiaro quindi non credo si farà casale lazio è sempre un nome caldo il difensore è stato intervistato a sport italia ha detto che ha serizzato l'occhio no gli piace sarri la lazio eccetera aspetta una chiamata vediamo è un nome sempre dopo romagnoli diciamo il secondo cioè non la seconda scelta però il secondo tassello della difesa poi campagna abbonamenti ve l'ho detto ipotesi ritiro in austria perché ritiro ad auronzo dal 6 al 22 e poi non più mare quindi in germania il classico ritiro ritiro in astria ipotesi perché sarri vuole lavorare magari anche un po un po al fresco no addirittura salire più a nord di auronzo e poi si sta progettando pianificando un amichevole il 6 luglio col valladolid che gioca in in liga in seconda divisione in spagna perché poi il 14 parte sappiamo che sarri vuole giocare e poi chiudo con la notizia che forse avrà dato il titolo a questo video pedrino scaramussa il nome è tutto un programma susciterà l'ilarità magari di tanti di voi classe 2002 non ancora compiuto vent'anni terzino sinistro del santos non ha ancora esordito in prima squadra e attenzione perché adesso qualcuno dirà come allora cioè noi prendiamo uno così a caso che manco ha esordito in prima squadra è un esempio che vi ho fatto tante volte in live ve l'ho detto quando si fa quei discorsi no anche molto lunghi e lo chartardone sappiamo che ha una rete di scout appunto che vanno in brasile ha proprio una sede dovrebbe avere proprio una sede fisica la vanno a visionare i giocatori e tanti di quei giocatori che poi sono venuti alla rivalda per dire anche mi ricordo da glas costa luiz adriano e poi ultimamente anche marco santoni tra l'altro che l'abbiamo preso noi dove dovrebbe arrivare prossima settimana a roma doveva arrivare questa poi è slittata la cosa e lo chartard li ha acquistati quando ancora non avevano esordito in prima squadra perché così che si fa perché quando esordiscono in prima squadra quando neymar si è messo a giocare a fare con quando felipe anderson e poi giocatori è facile prenderli grazie non c'è bisogno neanche dello scout li posso vedere anch'io da internet però costano quindi i club che non si possono permettere di spendere 20 30 milioni che hanno i money diciamo devono agire prima però non a caso ripeto con una rete di scout non da poco la lazio non so se ha fatto questo ma non credo conoscendoci non peschiamo più in sud america lo sappiamo tare anni che non pesca più sud america quindi pedrino scaramussa e c'è questa indiscrezione che addirittura in italia napoli per ottenere il passaporte italiano è in scadenza di contratto a dicembre quindi la lazio potrebbe prenderlo praticamente a zero certo non può essere magari il presente però come vi ho detto noi abbiamo bisogno di un terzino mancino necessitiamo assolutamente magari isai va via ma rosice destro anche isai è destro però spesso ha giocato a sinistra quindi attenzione perché questo è un giocatore che è interessante però ripeto non può essere il presente secondo me ok quindi va bene che appunto prendere i giovani e tutto poi bisognerà prendere anche secondo me un terzino sinistro vero mancino non adattare magari ma rosice che tra l'altro pillolina ha segnato anche in nazionale col monte negro nella scorsa partita in national league e niente ragazzi quindi questo era un po il sunto di tutto tante breaking news mi raccomando like se volete approfondimenti tutti i giorni ripeto seguitemi su instagram e passate ovviamente anche dal nuovo social cioè mio nuovo social tiktok bella ragazzi